E' con assoluta sorpresa, mista a tristesa, che accogliamo la notizia della dimissione del nostro amato Santo Padre Benedetto XVI. E' un uomo di Dio Santo e profondamente spirituale, sorretto da una fede incrollabile e un brillante acume teologico. E' stato coraggioso eppure gentile, un brillante accademico e al tempo stesso dotato di solide e umili fondamenta etiche e spirituali. Le regioni che il Papa dà riflettono in modo chiaro l'umiltà e la grandezza del Papa. E' una cosiddetta kenosis. Egli si spoglia di tutti i Suoi poteri e della Sua autorità per amore della Chiesa. Proprio ieri sera ho chiesto pubblicamente a Velancani, al Cardinal Filoni, il delegato, l'inviato speciale del Papa, di riferirlo al Santo Padre, che tutti in India pregavano per la Sua salute, perché potesse avere la forza e la grazia per cantoniare il ministero petrino. L'eredità del Papa è enorme. Egli ha guidato la Chiesa con intuizione profetica, incredibile zelo e solide basi teologiche. Questo storico evento, le sue dimissioni, è un segno del immenso amore del Santo Padre per la Chiesa. E ogni sua azione è guidata da un'intensa preghiera personale e riflessione per il bene della Santa Madre Chiesa. L'India ama, per detto, sedicesimo.